Non ha fine il tormento. Il Verona pareggia a Crotone, risultato di per sé accettabile, ma esplode il caso Pazzini, un caso che si aggiunge all'addio polemico di giugno di Toni e al grottesco balletto di Cassano a luglio. Il centravanti ieri è stato escluso ancora una volta dai titolari, una scelta pesante e rumorosa, perché alla storia e al valore di Pazzini, 107 gol in A, 188 in carriera e che a 33 anni è tutt'altro che finito, si aggiunge all'assenza in casa Ellas di una sua vera alternativa. Pazzini è l'unico centravanti in rosa e se con il Napoli pecchi aveva giustificato l'esclusione con fumosi motivi tattici, con il Crotone ha parlato di Pazzini non al top della forma, ma la sensazione se non la certezza è che il Verona, in fase di austerity, stia provando a cedere il suo capitano che ha ancora tre anni di contratto a cifre a 6-0. In entrata invece si è cercano due punte esterne e un centravanti. La sosta così giunge benedetta e l'auspicia è che la società dia segnali concreti che tranquillizzino un ambiente già scosso e che si possa ricompattare uno spogliatoio non così unito. Non ha di questi problemi il Chievo beffato nel finale dalla Lazio, ma dopo una partita positiva è che ai punti sarebbe finita in parità. La squadra di Marana ha confermato solidi equilibri e una manovra collaudata. L'impressione è che il Chievo sia già sufficientemente strutturato per una salvezza tranquilla.